Benvenuti nel mondo degli orologi Momentum. Momentum è un marchio di orologi sportivi canadese con sede a Vancouver, fondato nel 1980. Specializzato nella produzione di orologi da polso resistenti e funzionali per gli appassionati di attività all'aria aperta e sportivi, Momentum utilizza materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia per garantire la massima affidabilità e durata dei suoi prodotti. La gamma di prodotti di Momentum include orologi da immersione, orologi da escursionismo, orologi da corsa e orologi da surf tra gli altri. Gli orologi da immersione di Momentum sono particolarmente apprezzati dagli appassionati di subacquea per la loro resistenza all'acqua e le loro funzionalità avanzate. Uno dei punti di forza di Momentum è la sua attenzione per l'ecosostenibilità nella produzione dei suoi orologi. L'azienda utilizza materiali riciclabili e riduce l'impatto ambientale del processo produttivo. Questo impegno per l'ambiente è apprezzato dagli appassionati di orologeria e sportivi che cercano prodotti di qualità che rispettino l'ambiente.